Ma per caso Avete già messo mi piace? Avete messo mi piace vero? Ah l'avete messo mi piace? L'avete messo? E invece Vi siete già iscritti al canale? Siete iscritti? Vi siete iscritti al canale? Non vi iscrivete al canale? Guardate che non vi iscrivetevi siete iscritti? Brava no Il bambino silenzioso bilai E ciao a tutti ragazzi come preferite che vi parla e quest'oggi ragazzi Siamo qua in questo nuovissimo video Pazzo, incredibile, amazing Perché un mese fa abbiamo visto lui Il Blackview BL5000 Che è diventato il mio telefono principale Ma oggi signori abbiamo lui Il Doge V10 Questa bestia di telefono Che pesa quasi mezzo chilo Con un processore dalla madonna Il 5G Una fotocamera dalla madonna E un display stupendo E una batteria che è quella di una centrale nucleare Che è quella di un computer Da quasi 10.000 mAh Il tutto in questo telefono militare incredibile Che andremo a vedere insieme quest'oggi Sì, siamo capiti Ma prima di cominciare con il video signori Vi devo ricordare le solite cose da fare O ci arrivate da soli? Ci arrivate da soli a cosa dovete fare? Quindi se non volete finire impallinatevi Vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella Per non perdermi nessun nuovo video E di lasciare subito un bel pollice in su Adesso partiamo subito con l'unboxing Di questo telefono militare indistruttibile E poi col crash test Dopo Andoma! Abbiamo qua questo Doge V10 Una cosa mostruosa Di quelli che possiamo farci passare sopra un carro armato E non si fa niente Troppo forte Lo scatolo si presenta in questa maniera qua Abbiamo appunto qua la scritta Doge Tutta bella colorata RGB 8 GB più 128 GB Che non so se si legge nel caso ve l'ho detto Sì! All'interno della scatola Oh! Oh! Eccolo! E madonna! Mi è venuto giù che era un mattone Il contenuto della scatola è messo Che è una cosa meravigliosa Cos'è questa roba qui? Scusate Cos'è un pennino? È un cotton fioc Devo pulirmici le orecchie Sì, sì! Abbiamo questo padellone qui Che è il tele... Madonna ragazzi! E questo padellone qua è il telefono Il cavo di ricarica E visto che qua non sono tirchi Abbiamo anche l'alimentatore Il telefono si presenta in questa maniera Madonna ragazzi Questo è corazzatissimo Ma questo qua è militare Guardate quanto cavolo è grosso Quanto è grande Soprattutto pesa tantissimo Per farvi capire anche a livello di spessore È più spesso del mio Blackview Che è spesso Arriva col vetro per l'applicato Quindi quello che ci danno assieme È una cosa optional Grazie! E lo credo bene Sono troppi pulsanti Quanti pulsanti ci sono? Sul primo lato abbiamo il pulsante del volume Su, volume, giù Impronte digitali E accensione in teoria È questo che non so cosa sia Sull'altro lato invece abbiamo il coso della sim È come se non bastasse un altro pulsante Quanti pulsanti ha? Scusate! Ah non lo so io Abbiamo poi tre fotocamere E questo qui Che non è una fotocamera Ma è il sensore di temperatura Quindi possiamo misurarci la febbre così Questa qua è la versione da 8 giga di RAM E 128 giga di ROM Dopo che qui se vi cade Dovete fare attenzione Non per lui Per il pavimento Perché vi ritrovate un cratere Momento dello spellicolamento pazzo Non ho capito È successo qualcosa che non doveva succedere Perché non ha spellicolato Mi ha staccato il vetro Andiamo a riapplicare il vetro One eternity later E l'ho fatta! Da dove si accende il telefono? Oggi powered by Android Vi salto tutta la parte pallosa Della configurazione Che conoscete giusto Ci vediamo dopo Blocca con l'impronta Adesso scopriamo Qual è il lettore di impronte Questo qui è il sensore di impronte? Sì! Che figo! Oh! Ma bella l'interfaccia! Il telefono si presenta In questa maniera qua Una volta completata la configurazione Mi piacciono davvero tantissimo Le icone messe in questa maniera qua Vero poi gestore di sistema Come applicazione preinstallata Basta che cliccoli e pulisce la RAM Figo! Bello sto suono di notificato E' molto molto veloce Della fotocamera Per vedere com'è Questa super mega fotocamera Pazza incredibile Devo dire che fa delle foto Davvero davvero belle Cioè guardate i dettagli Dell'immagine I dettagli dell'immagine Qua sono io che ho il parking Se non ne riesco a tenere fermo Il telefono E quindi la foto viene sfocata Però però niente male Mi piace la fotocamera Oh! Bellissime le impostazioni Android 11 Da come potete notare Quindi Android molto molto recente Vedo capire cosa fa sto tasto qua Perché non lo so Cioè se lo clicco cosa succede? Non fa niente Per la prima volta Leggerò il manuale Delle istruzioni di un cellulare Si è scritto Custom Key Function Quindi è un tasto Che possiamo customizzare Come vogliamo Ho capito anche dove si mette Il laccetto Che si mette esattamente qui E serve in teoria Per portarcelo Per farci staccare il bravo Per impiccare Oh man Visto che siamo poveri Useremo questo Come treppiede Odierno Benissimo Bella sta mano l'ercia Adesso sono Shrek Fantastico Siamo qua Nella mia dimora Cioè su un marciapiede Ma va bene lo stesso Per andare a effettuare Un bel crash test Del telefono indistruttibile Che da come potete notare È qua nel suo splendore E c'è il vetro protettivo sopra Ci sta la pellicola Notato 1.1 E come lo lancio Si spacca il vetro protettivo Io però l'ho lasciato Perché te lo davano insieme Era preapplicato E lo togli E lasciamolo E lo credo bene Primo test che voglio fare È una classica caduta Altezza tasca Che può cadere sempre 3, 2, 1 Ha fatto un suono Che probabilmente Si è rotto il pavimento Il telefono No Vi prendo con me Così lo vediamo assieme Signori Il telefono è qua 3, 2, 1 Ed Oh Attenzione Anche il vetro protettivo Ha resistito Non si è fatto assolutamente niente Non ha neanche Un graffio Il vetro protettivo Stavolta da un'altezza Un pochino più elevata 3, 2, 1 Aia Il suono non è stato Per niente bello E anche in questo caso Signori Il telefono è perfetto Non si è fatto Un graffio Aia Questa è stata Più violenta Ma signori Ancora Non si è fatto niente Non si è fatto nulla Neanche il vetro protettivo 3, 2, 1 Aia Avete idea Questo popò Ha fatto un suono Un suono Che è stato a dir poco Madonna Ho sentito il male io Andiamo a vedere insieme Andiamo a vedere insieme Perché ho paura Vediamolo assieme Ma è incredibile Ma sono viola E' pazzesco Non si è fatto un graffio Anche questa volta E' incredibile Guardatelo E' perfetto Guardate il vetro del telefono Non si è fatto nulla Ed è il vetro protettivo Cioè Immaginate il vetro normale Aia Porca di quel E' la cosa più dura Dell'universo Veramente questo qui Ci date un pugno Potete usarlo come arma Lo tirate in testa a qualcuno Se qualcuno vi rompe il cazzo BOOM Lo uccide Vuole il porto d'armi Per portare sta roba in giro Ve lo assicuro Potete notare anche Il display Funziona ancora Andiamo subito a testarlo In piscina E il 30 settembre L'acqua sarà a temperatura russa Per farvi capire Questo è il colore della piscina E la palude di Shrek Certo Aspetta e spera Però volevo ancora fare due test In distruttibilità di questo Da questa altezza qua Che è veramente Veramente in alto E qua siamo su Piastrelle durissime Dure come il cazzo di Rocco Anche a questa botta Ha resistito Benissimo E' benissimo Se qualcuno di voi Ci fosse mai chiesto Com'è fare il bagno Il 30 settembre Io Io tranquillamente posso prendere il telefono E fare questo Cazzo prendilo Non buona E se per caso E se per caso Il vostro telefono Fosse lercio Schifoso Lurido Potete tranquillamente Prenderlo E lavarlo Ed è ancora in registrazione Cioè E' pazzesco I mesi Uuuu Aiaa One eternity Later Ho anche testato Ovviamente In altre cose Non solamente Nel crescente Perché non penso Che vogliate comprare Un telefono Per spaccarlo Se cagate soldi Allora Cioè potete anche farlo Ma io non cago soldi Nell'uso quotidiano Diciamo che è una cosa Abbastanza scomoda Per esempio Ho detto che pesa 77 chili Ed è un porco Appunto Proprio pesando 200 milioni di chili Non è la cosa più comoda Da avere in tasca Diciamo che vi fate I boccadere i pantaloni Porca putz Si è rotto il piede Perché mi è caduto sul piede A usare come telefono Aggiuntivo O addirittura Come camera phone Perché ho provato La fotocamera Che è una cosa Veramente Veramente bellissima Ha una fotocamera frontale Infatti da 48 megapixel Che fa delle foto Veramente Veramente molto buone Ho provato sia la grandangolare Sia quella normale Sia lo zoom Lo zoom perde molta qualità Non mi ha fatto impazzire Mentre invece La fotocamera normale E anche la grandangolare Mi sono gustate Contando che è un rugged phone E di solito Vedi il rugged phone Era un'interfaccia di Android Del 2012 Infatti l'interfaccia in generale È veramente Veramente bella Molto molto fluida Ha infatti una Wii Molto molto bella Molto fluida Con delle icone E un tema Molto bello Non il classico tema Particolare Per i rugged phone Non potevo anche Non provarlo Per giocare Perché ovviamente Dovevo farci Il solito test Da gaming Non ha il processore Di Cristo Ha un Mediatek Dai mesi Di 700 Che comunque Offre delle prestazioni Molto molto buone In praticamente Tutti i giochi Riuscirete infatti A giocare a qualsiasi gioco Io l'ho provato Su due giochi Molto pesanti Ovvero Code Mobile E Genshin Impact In tutti e due i casi Con grafica elevata Riusciva a stare tranquillamente Intorno ai 60-30 fps Su Genshin in particolare Perché la grafica massima Di Genshin È molto molto alta Ma comunque Non tirava mai Lagate particolari E questo è anche dovuto Al fatto Non solo del processore Ma anche appunto Della RAM Del fatto che abbiamo Un sacco di RAM libera Il fatto che questo telefono Pesi quasi mezzo chilo Però è dovuto Soprattutto al fatto Che abbia una batteria Da ben 8500 mAh Che è una cosa Fuori di testa Potete tranquillamente Farci di quelle sessioni Di gaming infinite Contando che anche il 5G Io in più Sono vaccinato Quindi sono un ripetitore umano E quindi infine Lo consiglio Assolutamente sì Ma come telefono secondario Perché come primario A meno che proprio Non siete dei muratori Se qualcuno di voi Fa il muratore Mi scriva questo sotto Nei commenti E allora vi consiglio Di usare questo telefono Tutti i giorni Nell'uso Quotidiano Perché alla fine Cioè in cantiere Può capitare qualsiasi cosa E portarmi un iPhone 13 Nel cantiere E quindi signori Anche per quest'oggi È tutto Spero che appunto Questo video Vi sia piaciuto Se questo fosse Vi invito Anzi no Non vi invito Vi minaccio Vi lasciare subito Un bel pollicione In su Qua sotto E fatemi sapere Con un commento Soprattutto cosa ne pensate A riguardo di questo telefono Mi ricordo che i link Per acquistarlo Sono qua sotto Nella descrizione Io però questo adesso Col fucile in mano Lo dico Intimidiamo un po' Dai Come i talebani Mi ricordo anche Che per non perdervi Nessun nuovo video Dovete iscrivervi al canale E attivare anche La campanella delle notifiche In maniera tale Da ricevere sempre Le notifiche E restare aggiornate Su ogni nuovo video Che uscirà sul canale Vi ricordo anche Che se volete parlare Con il sottoscritto In descrizione Trovate il link Al mio profilo di Instagram Dovete iscrivermi in direct Ma anche al mio gruppo Telegram Nel mio server Discord Dove appunto Potete parlare Con il sottoscritto Tutti i giorni Detto questo signori Come sempre Aggiungerei nient'altro Noi ci becchiamo Come al solito Ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi